Buongiorno, io sono l'Asiago Altebrinano. Mi faccio da circa un riguardo di questa Marchesana, e qui è il campo pleno dei papà voi, che vi posso scegliere. È vero e molto bello. Ogni ora sprovi, mettimi sulla biciclo, che posso non triarvi ancora io da papà voi. La ruggia coloro in la verde, è forte contrasto. Anche ho pronto io, questo è bello. Nonché questo è molto facile, tenere la fotoapparata, fixa, che giriamo qui giù, questo è un problema. Se è sull'asfalto, il asplivone, o il sen asfalto, niancio, ci servito.